Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Antonino Spinalbese, celebre per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e per la sua relazione con Belen Rodriguez, aveva abbandonato il mondo della televisione per tornare alla sua professione di parrucchiere. Tuttavia, a due anni di distanza dalla sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, l'ex concorrente farà il suo ritorno in tv su Rai 1. L'annuncio è stato fatto ieri pomeriggio da Nunzia De Girolamo durante la vita in diretta, anticipando che Spinalbese sarà uno dei primi ospiti del suo programma Ciao Maschio. Nunzia ha svelato i dettagli della prossima puntata di Ciao Maschio, in onda sabato 14 settembre in seconda serata. Ritorneremo presto. I miei primi ospiti includeranno Gianluca Semprini, con il quale ho condiviso l'estate lavorativa e che ho trovato ideale per la mia prima puntata. Ma non sarà l'unico. Avremo anche Antonino Spinalbese, il famoso ex di Belen Rodriguez che non appare in tv da molto tempo, e Chef Ruben. Poi quest'anno cercheremo sempre di includere personaggi presi dal web, come lo chef che cucina sui balconi. Si discuterà di insuccessi in amore, del mondo del lavoro e molto altro. Poi ci sarà una grande domanda. Il tradimento è un fallimento o no? Chi mi piacerebbe avere nel mio programma? Salvo Sottile, tu Alberto sei già già stato qui. Salvo è l'uomo alfa da intervistare. Riguardo alla fine della sua storia con Belen, Antonino Spinalbese aveva rilasciato un'intervista un anno fa. Spinalbese aveva spiegato che la causa principale della fine della loro relazione era stata la differenza di tempi e di obiettivi nella vita. Nonostante tutto, l'ex concorrente del grande fratello Vip ha ribadito che non rimpiange nulla e che la loro connessione era stata straordinaria, anche se si trovavano in fasi diverse. Grazie a tutti.